puntandogli contro la pistola con gli occhi tormentati dalla paura guardammo il tenente herman schultz che con dieci soldati era venuto a prenderci nel carcere dove eravamo rinchiusi come antifascisti eravamo 18 prigionieri guardavamo bene i nostri aguzzini ciascuno degli undici aveva centinaia di morti sulla faccia quando il direttore del carcere si rifiutò di consegnarci senza l'ordine scritto il tenente chiuse le trattative puntandogli contro la pistola fumo caricati in un camion con il sapore di terra in bocca terra di sepoltura poi il camion si fermò in aperta campagna e anche l'ultima speranza aspirò attendemmo la fucilazione invece schultz ci lascio liberi non credevamo che un plotone tedesco avesse qualcosa di umano a malapena dicemmo vi ringraziamo per averci stupito e fuggimmo dopo molti anni quelli che di noi sono rimasti si sono incontrati con schultz all'ex tenente dell'esercito tedesco abbiamo consegnato una targa su cui è scritto gli uomini nel tempo ricordano commento che cosa ha motivato il comportamento del tenente schultz è stata una conversione della frequenza dei suoi codici che ha spostato il suo comportamento dal fucilare a salvare i prigionieri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.